Purtroppo le ultime notizie in Sicilia sul coronavirus non sono confortanti. La Sicilia sta superando per numero di positivi anche la Lombardia. Adesso l'età media si è abbassata, un bambino a Catania, un bambino che frequentava un asilo nido privato, risultato positivo. L'intera classe è stata messa in quarantena, così come i familiari e i tre operatori dell'asilo. 11 ragazzi tornati da Malta a Canicattini Bagni nel Siracusano sono risultati positivi. Il presidente della regione la scorsa settimana a Caltanissetta ha dichiarato godetevi le ultime settimane d'agosto perché se la curva epidemiologica continua a salire saremo costrecchi a chiudere tutto. Con noi le parrucchiere Gerri Garlisi. Non bisogna nascondere la verità, purtroppo i casi positivi stanno aumentando, però un altro eventuale lockdown per le attività commerciali e le partite IVA sarebbe catastrofico. Certo, concordo con la sua idea. Un eventuale lockdown sarebbe, penso, la fine per alcune attività commerciali, tipo i piccoli artigiani. Sarebbe la fine. Ma spero che la gente prenda atto di quello che sta succedendo e si preservi un poco, almeno un minimo di controllo. Perché comunque vedendo in giro c'è tanta gente che è come se tutto fosse tornato alla normalità. Perché molti dicono la causa è degli extracomunitari, degli immigrati. Certo, metà dei contagiati in Sicilia riguardano extracomunitari, però purtroppo in giro, come dice lei, la movida soprattutto estiva ha preso troppo piede, si vive troppo rilassati. Sì, sì, la movida estiva ha preso troppo piede, si vive in maniera del tutto normale, come se niente fosse stato. E poi, naturalmente, sì, gli extracomunitari, ma quelli sono arginati in dei posti dove vengono accolti. Il problema è le persone che vengono da fuori in vacanza, anche qua da noi, che arrivano qua muniti di mascherina, ma vedendo questo palco già il tutto libero, si tolgono la mascherina come se niente fosse. E ci sono tantissimi asintomatici. C'è tanta gente che ce l'ha e non sa di averlo. Quindi penso proprio che, spero che la gente prenda coscienza e abbia un minimo di controllo, anche per loro stessi e per noi, per non tornare di nuovo a quel terribile periodo di lockdown. Altri commercianti dichiarano che non stanno più investendo, non acquistano più merce perché sono nel dubbio se resteranno aperti o meno. Lei come parrucchiera ovviamente non acquista merce, però acquista tutt'altro, colori, mascherine, guanti, sempre merce, infatti. Lei sta pensando ad investire o anche lei si sta dando una regolata nel dubbio? Allora, una regolata? Penso che dopo il lockdown qualcosa sia cambiato un po' in tutte le attività commerciali, dove non facciamo più grossi investimenti, ma bensì viviamo, diciamo, alla giornata, settimanalmente. Io l'unico investimento che voglio fare sarà per i guanti e le mascherine, perché se torna un eventuale lockdown non so cosa si troverà in giro più, perché tutto sarà preso nuovamente d'assalto come era in quel periodo. Uno come lei, che ha sempre rispettato le regole, qui si viene su appuntamento, obbligo di mascherina, obbligo di guanti, sanificazione delle mani, ha diviso i lavabbi con dei divisori, non ci sono assembramenti, e poi vede che a causa di molti, soprattutto, gestori di pub, che invece si comportano tranquillamente, lei dovrebbe rischiare di chiudere nuovamente la rabbia sale. Certo, questo fa rabbia, perché per l'inguranza di alcuni poi dovremmo pagare tutti. Spero che chi di dovere faccia i giusti controlli, dove si svolge realmente la movida, dove c'è non assembramento ma di più, direi. Certo, è giusto così, che qualcuno controlli come facevano all'inizio, che c'era il controllo. Da me sono venuti e giustamente io ho dovuto dare atto di quello che facevo. Spero che sia un pochettino, che tutti rispettino le regole, come in tutto il resto del... Dovrebbe essere normale così.